Un decalogo per la creatività Di Federico Faggin Il progresso umano dipende dalla creatività La nostra storia brilla nei periodi in cui l'uomo ha portato nuove idee creative nel mondo Le idee più rivoluzionarie sono quelle che hanno cambiato la nostra idea di chi siamo in relazione all'universo Stiamo vivendo un periodo di crisi profonda Perché dobbiamo fare un esame di coscienza e riconoscere che la nostra vera natura è stata offuscata dal materialismo che ha accecato il nostro cuore